Pranzetto da leccarsi i baffi con un pezzo di caciocavallo. Taglialo a fettine regolari, schiaccia due spicchi d'aglio e fa li soffriggere in padella con un filo d'olio. Unisce anche il formaggio e quando fa la crosticina condisci con sale, peperoncino, origano e un po' d'aceto bianco. Copri per un paio di minuti e poi servi, caldo e filante. Il cacio all'argentiera fa l'odore della selvaggina e è stato creato da una famiglia palermitana per non fare capire ai vicini di essere in decadenza. Va mangiato con tanto pane, magari un po' meno, ecco, ora ci siamo. Grazie a tutti.